Ecco il bacino, e lo scopo. Diamo un'occhiata da vicino. Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Wow, ma che... È un... mare di veleno. Non può essere... Non può essere vero. Sarà il veleno, ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Questo schifo mi ucciderà! Dunque ragazzi, salve a tutti. Sono sempre il vostro Sion Troceiver, amichevole di quartiere. Come vedete è cominciato l'episodio che siamo stati attaccati dal scorpio. E quindi siamo... Qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Ok, sostanzialmente. Probio non si è risparmiato. Eh no, Pete. Allora. Dunque, dobbiamo... No, questo non va bene. Proviamo a metterlo di qua. Ok, ora ci serve solamente uno per eliminare... Questo andrà qui. Dunque, quanto pare, scorpio non ci ha avvelenato. E adesso siamo in una situazione, oserei dire, forse un po' sgradevole. Che dite? Dubito che funzionerà, ma noi ci proviamo. Allora, facciamo così. E facciamo così. Vediamo se funziona. Perfetto. Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipse da Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ISU è vicina. Speriamo sia stagione. Dunque, come vedete abbiamo il costume di Spider-Man Ragno di Ferro. Ovvero quello di Infinity War. E il suo potere è molto interessante, ragazzi. In quanto ci permette di attaccare anche i nemici che originariamente non potremmo colpire con certi attacchi normali. Aia. Aia. Ragazzi, non è facile stare in equilibrio. Dunque, dobbiamo capire come arrivare la serra. Eccola là. Perfetto. Insomma, ci hanno drogato. Dov'è finita? Ok, dobbiamo seguire Doc. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. Ah, P. Ragazzi, dobbiamo stare attenti ai salti che facciamo perché si rischia di finire di sotto, eh. Eppure non hai fatto nulla per ieri. Vieni da chiedersi quale sia con le tue priorità. Se ci devi tanto, non c'è. Fortuna che ci possiamo appendere a nulla. Posso aiutarti? Nella rete neurale sta prendendo il sopravvento in l'Eclipse d'Alba. Perfetto. Abbiamo trovato l'Eclipse d'Alba. Questa, ovviamente, è stata pensata come una sezione di caricamento. Spero che non sentiate troppo vento, ragazzi. Perché fuori da casa mia c'è l'Apocalisse oggi. Ah, le code giganti di Scorpion. Deliziosi. Grazie, cervello. Come ti senti, Ragneto? Il panico è il sopravvento. Scorpion, come hai avuto questo numero? Sempre queste domande banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione non sia l'ultimo febbile sul suorio del tuo cervello. Reale o meno. Minteralizzato il meleno verrà a prenderti, Mac. Ahahahah. L'insertino fa una voce grossa. Diverditi con il vampiro. Ecco la stazione di ricerca. Non serve quella tropina. Deve entrare nello specchio la tropina. Ragazzi, è sempre più dura, eh? E ora avremo un'altra sequenza, credo che dovremmo seguire Doc. La tropina è svanita. Sì, vedete? Di nuovo, invece. Sei in ritardo? Come eri in ritardo per aiutarmi? Questo non sei tu, Doc! Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene! Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti. Te lo giuro! Smettila di ingannare te stesso! Tu non aiuti mai nessuno! Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno! Chi ti tocca soffre! Non forcire! Lasciami provare! Io non voglio nulla da te! Sei un fallino. E' la vita! E' la vita! In amore! Sul lavoro! Porti solo sciagura! No! Aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego parla con me! Posso aiutarti! Non tanto di cominci gli altri! Limitando! Soffocando! No! Non sento una brillata di luce propria! Sono tuo amico Otto! Ti prego! Ti ho sempre supportato! E lo farò sempre! Hai supportato dentro le mie scoperte a Noro sabotando il mio lavoro Non credere che non vedessi Non credere che non sapessi Ti prego Doc! Ti prego! Ecco la! La tropina! Ok abbiamo trovato la tropina Perfetto Ah! Ci pitiamo di nuovo ragazzi Nel questo sconto con Scorpio sta diventando più fastidioso del tre visto Oh no la tropina! Non resta che miscelare l'antidoto Mento di tornare al laboratorio Ancora dei nostri! Sono quasi qualissimo! Mi spiace Stai felino ragno Le competenze non sono affatto finite Ci vedremo presto Molto presto Contaci! In mezzo ai tentacoli di Scorpio Allora Fa so 新iglia di Questo dovrebbe essere il laboratorio di Dork, se mi ricordo l'ingresso. Sì. Vuoi scontarti? Sei il mio nonorentico. Sei uguale a Osborn. Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua. So che ridevate di me. Tutti quanti alle mie spalle. Mi supplicherai di salvarti. Ma sarà troppo? Pensate che avessi dimenticato. Scorpion, sei irreale. Fermo. Ora però sembra il momento giusto. Ok, basta colpirlo poi a ragnatele, sembra. Un'altra allucinazione. Per lo meno si lascia picchiare. Passiamo. Cauti. Più di uno Scorpion. Sei tu il veleno che tenta di distrarmi ora allo schermo. Fatti sotto. Aia, aia. Si può attaccare alla cieca è inutile. Sei un perdente. E uno. Ok. Vediamo capire. Mentre ci sta per attaccare. Ok. Un altro. E ci liberiamo di un altro. Non ne restano molti. Basta metterli nel sacco Quei ragnate Liberiamoci velocemente Di queste coppie di scorpio Spero sia l'ultimo Non mi reggo più in piedi Sì, ecco gli strumenti Ottimo, dai Possiamo curarci Finalmente Speriamo Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' spuggita di mano Ok Forse dovrei mettere dei vestiti Direi di sititi Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto Esatto Ok Usciamo dal laboratorio di Norman Osborn Perfetto Strade di veleno Abbiamo completato la nostra missione Perfetto ragazzi Siamo di nuovo Per strada Aspettando una chiamata di qualcuno Speriamo non tardi troppo O MJ O O Zia Mei O Miles Morales Non sappiamo O Yuri Watanabe Che ci dirà dove sono i prossimi super cattivi Ehi Ehi MJ Senti Avrei una questione etica Piuttosto spinosa Quando è che si può Voltare le spalle a un amico Oh wow Pete Ti riferisci a Otto È così evidente Beh sì Ed è anche comprensibile Il serato generoso E di sani principi Vorrebbe dirti Mai I veri amici Non si arrendono di fronte a nulla Ma Dopo quello che ha fatto Otto Non lo so Pete Forse devi solo capire Se il lotto Octavius Che conoscevi Esiste ancora O se è mai esistito In effetti Già Vabbè Grazie MJ Devo ancora Metabolizzare la questione Chiamami quando vuoi Pete Io ci sono sempre Ok Ecco qua Ora dovrei pensare a Scorpion Ma È dall'incendio Che mi vado a trovare Azzione Posso concedermi Una veloce sosta Al triste Ok Torneremo Allerfist Quindi Allerfist Degli evasi Hanno scatenato Una rivolta Il luogo segnalato È Nolita Unità in zona Accendi sottotiro Il luogo è lite Tokyo Passo Ok E rimettiamoci in abiti civili Bravo Peter Allora ci ha fatto penare Un bel po' Prima di darci il prossimo obiettivo Ma se non altro Adesso Possiamo muoverci Che non torna mai Se dobbiamo accertarci Che nessuno soffra la fame Oh Peter Che bello vederti Come stai? Tutto bene? Tutto a posto Zia May Come procede? Bene Ma c'è molto da fare Oh Lascia che ti ha Ehi Attenta Sto bene Non sei stata tu A insegnarmi Ad accettare Che siamo esseri umani Come tutti gli altri Tu e Ben Sempre pronti a usare Le mie stesse parole Contro di me Sto bene Peter Non è Nulla di grave Dov'è Miles? Non può aiutarti? Lo sto facendo È andato a recuperare Dei medicinali Al centro accoglienza Incredibile Quanto finiscano Velocemente Gli antibiotici D'accordo Tu prenditi una pausa Qui ci penso io E dopo andrò a cercare Miles A fare fatto? A fare fatto Il mio orgoglio Dovrà farsene una ragione Andiamo Miles Rispondi Non posso preoccuparmi Anche di te Ok Ora avremo una sequenza Di gioco Con Miles Morales Ragazzi Prima di dover affrontare Con Spider-Man Rino Quindi Se mi ricordo bene Quindi Prima di poter Mettere mani sopra Un altro super cattivo Allora Passeggiata Certo Come ha fatto Un gruppo di detenuti A combinare questo Sempre si è passato Un bulldozer esplosivo Posso rinunciare Al fist Servono gli antibiotici Adio Come faccio a distrarlo Forse l'abda hacker Meglio muoversi detto fatto ho camminato per sbaglio sui vetri avete visto ecco la scatola non è medicinali quindi potrebbe essere molto più difficile e pericoloso ottenere i medicinali ok passiamo di qua questo qua come lo possiamo eludere con l'app da hacker ovviamente stavo già pensando di ricorrere sopra i vetri ma altre scorte ma devo aggirare quegli uomini ok di qua perché i supercriminali hanno preso di mira i gentili angoglienti riguardo vogliono dimostrare che non sa proteggere la città che razza di esibizionisti ma fin tanto che ci lasciano tenere il bottino se vuole hanno detto dove sono i depositi si un'altra tenda incrociamo un paio di kit medici ma niente antibiotici devono esserci ragazzi è bello pieno di nemici qua non possiamo scavalcare stiamo attenti a ottenere queste cose devo evitare il cecchino qui bisogna calcolare i tempi ragazzi aspettiamo che il mirino si sposti e facciamo dai possiamo passare qua dietro sembrerebbe leggermente più coperto andiamo si si mica tanto perfetto che razza di armadio quello deve essere il bulldozer io non ci scherzerei tanto mai signori chiedo venia il mio partner è scraziato non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria ne avrei fatto a meno cosa brutta che avremo rhino e costoli adesso non credo mi abbia visto devo darmela a gambe chiunque tu si esci fuori ho tempo da perdere quel tunnel ti divertono ai giochi di luce io mi divertirò con la tua faccia vieni fuori e prometto di non schiacciarti ti prego non vedermi ti prego non vedermi ti prego non vedermi a meno che non dobbiamo ah guardate di qua vabbè a queste cazze lui può lanciare potrebbe essere difficile riuscire a scattagliogli alle spalle hai di meglio da fare non stare appresso a me rhino pure te vedete la cosa brutta è che non si capisce istantaneamente cosa bisogna fare e questo ci potrebbe obbligare a un dai entrare proviamo di qua è abbastanza intuitivo giocare è anche veloce oserei dire ma è anche veloce è la mia via è la mia via di uscita vai 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 devo fare in modo che liberi l'uscita and vai 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 non Le medicine almeno le abbiamo prese? Sì, direi che siamo in salvo. Che avvisere amrei? Lasciami! Molla il portafoglio! Aiuto! Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo ha pegato! Fianchi dritti. Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. No! Wow! Sei in coda? No, sta bene così. Sei in coda. Devo migliorare il mio repertorio. Miles! Ehi, ti stavo cercando. Tutto bene? Ehi, Siv. Non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Ecco qua, ragazzi. Dunque, abbiamo completato la nostra missione con Miles Morales, recuperando i farmaci. Ed ora torniamo su Peter, credo. Ecco qua. Incursione medica. Lavoro eccellente, Miles. Resta nei pressi del piste. Se le cose si mettono male, indefiniti, potrebbero prenderlo di me. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarei il primo a saperlo. Ottimo. Grazie, Miles. Perfetto, ragazzi. Dunque, ora vediamo se non accade niente. No, c'è già chiamato Yuri. Speriamo. Dunque, ragazzi. Non sono riuscito a mostrarvi il superpotere di questo costume. Quindi lo faremo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto l'episodio di Marvel e Spider-Man, io vi chiedo il solito like. Oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando e come continuerà Marvel e Spider-Man qui sul canale. Alla prossima, ragazzi. E grazie di essere stati con me. Ciao, ciao a tutti.